Ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da accertare ed è finito sulle scale di un negozio. Protagonista del rocambolesco incidente stradale che si è verificato intorno all'1.30 di questa notte all'incrocio di via Pola e un 23enne di Pacentro. Il giovane, stando alle primissime informazioni, avrebbe fatto tutto da solo. Stava percorrendo via Papa Giovanni XXIII quando è arrivato all'incrocio tra via Pola e via Cappuccini e avrebbe perso il controllo dell'Audi A3 finendo sulle scale di un negozio. Fortunatamente il giovane automobilista non avrebbe riportato gravi conseguenze dopo l'impatto anche se sarò trasportato da un'ambulanza del 118 a pronto soccorso dell'ospedale cittadino per tutti gli accertamenti del caso. A farlo uscire fuori strada potrebbe essere stato un colpo di sonno ma i sanitari stanno procedendo con tutti gli esami di routine. Per la scalinata dell'esercizio self-service non si sono registrati ingenti danni. Sul posto sono presenti ancora alcuni frammenti dell'auto incidentata. Per i rilievi di rito sono intervenuti polizia e carabinieri che dovranno ora ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Solo cinque minuti prima dell'incidente, stando a racconto di alcuni automobilisti che hanno fatto le ore piccole, era vassata da quelle parti una macchina dei carabinieri per il normale servizio di controllo del territorio. Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire, anche se lo spavento per i giovani di Pacentro e per i suoi familiari è stato forte.